Allora, a titolo definitivo alla Pescara, ma è stata una trattativa, mi pare di capire, molto sofferta? Sì, io comunque appena ho saputo di questa, l'offerta da Pescara, comunque ero molto contento, comunque è una grande piazza, l'anno scorso mi sono trovato molto bene, ma come si sapeva, abbiamo sfiorato un'impresa l'anno scorso a Bologna, peccato come è andata a finire e niente, non ci ho pensato due volte, comunque ovvio che poi quando avrei comprato un giocatore non è semplice, poi alla fine ci siamo messi d'accordo e sono molto entusiasta di stare ancora qua per quest'anno e cercare l'impresa che non è venuta l'anno scorso. Quindi il problema era intesa sull'ingaggio? Vabbè anche quello, poi ci sono altri fattori, comunque i giocatori che sono venuti, quelli che magari non hanno più voluto e basta. Adesso sono contento di stare qua e di fare il campionato che abbiamo fatto l'anno scorso. Non so perché ti chiedo questo, perché poi hai bacchettato i giornalisti su Facebook, sul tuo profilo persona. Ho letto delle cose, comunque non erano vere, altre magari erano vere, è ovvio che comunque quando... Hai generato la tua immagine, la tua persona. Certo. Cioè che cosa ti ha dato fastidio in questa vicenda? No, assolutamente. Io comunque mi andavo tranquillamente a Verona, poi comunque ricevo molti messaggi così, ma non mi sono mai preoccupato. Cioè assolutamente io, la società sapeva che mi interessa anche di venire qua. Mi sono messo in gioco comunque nella squadra di Serie A, siamo venuti nella squadra di Serie B. È una piazza importante come ho detto prima, adesso cerchiamo di far bene e siamo venuti qua per cercare di arrivare in Serie A con il Pescar appunto. E che squadra sta nascendo? Io sono arrivato da due giorni, mi sembra una squadra giovane e molto volenterosa comunque di fare il risultato. Oggi col mister comunque abbiamo preparato la partita bene, abbiamo vinto la partita. Adesso ci saranno altre amichevole, il 2 contro il Sassuolo e vedremo i risultati poi. Hai giocato a sinistra però insomma... Sì, vabbè, mancava... Non è un problema per te. No, no, mancava alcuni giocatori, mi sono messo a disposizione col mister. Trattando che abbiamo vinto e abbiamo portato a casa la vittoria. Tra l'altro insomma la società ha anche fatto un investimento oneroso pur di averti, no? Sì, ma io sono contento, intendo così. Magari la possono pensare comunque da Verona a una retrocessione, assolutamente no. Sono venuto qua, mi sono messo in gioco e cerchiamo di arrivare in Serie A con il Pescara. Anche perché abbiamo saputo anche che una ragazza pescarese si è fidanzata. Non si dice quella. Ah, però è perché si può di tanto... Sì, sì, pure quella. Quindi anche quello ha inciso, voglio dire. Chi ve l'ha detto? Eh, sono soddisfattissimo. Sono soddisfattissimo. Passa e fatta con i giornalisti? Sì o no? Vabbè, io non ce l'ho... Diciamo con chi ce l'avevi e così... Non ce l'ho contro con nessuno io. Sono contento di essere qua e... Però sei stato pesante in quella... Vabbè, dipende che giornali avete letto voi. Vabbè, sul tuo profilo Facebook, cioè... Vabbè, no, io comunque è ovvio che da alcuni giornali che ho letto non è che sono stati proprio... alcuni magari erano veri, altri no, cioè... Io comunque... Tu sei arrabbiato perché qualcuno ha detto e ha scritto, Zampano ha sparato una cifra pazzesca. Sì, poi mi sembravo passato per mercenario quando non sono assolutamente così, cioè... Cioè, si parla di 350 mila euro netti l'anno. Sì, ma ho letto anche di più, assolutamente, cioè... Quindi, per quello... Cioè, la 150 è la cifra reale, però, che avevi chiesto, cioè... No, sinceramente un po' di meno, cioè, di meno, assolutamente. Poi è ovvio che comunque uno va... No, no, no... ...va andare un po' più va, cioè, è ovvio che non vai a prendere quelle cifre lì. E comunque la società sapeva che voleva venire, poi siamo... Infatti abbiamo trovato l'accordo senza alcun... Un dubbio, cioè... Perfetto. L'abbiamo aspettato un po', dai. Vabbè, polemica finita. Salutiamo i tifosi, salutiamo i tifosi. Niente, saluti i tifosi e speriamo di continuare la campionata che abbiamo fatto l'anno scorso e niente, ce la metteremo tutta.